Benvenuti a Legends, ci vediamo a Napoli, il nuovo programma con tutte le leggende che hanno fatto la storia del calcio a Napoli. Questa è un'anteprima e abbiamo con noi un ospite d'onore. Adesso lo presentiamo e lo vediamo al buio, è ritenuto una leggenda, è una vera aucona, è veramente un uomo che è amatissimo, un calciatore, una leggenda che è amatissimo da neopolitani. Secondo i sondaggi è secondo solo a Maradona, è proprio nel cuore di questa città. Ebbene, è l'attaccante più forte al mondo ed è con noi Antonio Careca. Ciao Antonio, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera Antonio, come stai tu? Benissimo. Perfetto, sei arrivato qui a Napoli. Sì, a casa mia, no? Sono tornato un po' di tempo fa che mancava in questa città meravigliosa e è sempre un piacere ritornare qui. Ecco, ci piace svelare un po' questo lato anche umano del calciatore, dell'uomo che è diventato famoso. Allora, da Antonio a Careca, quando è che ti sei accorto di avere questo grande talento? Quando hai capito che questo talento ti avrebbe portato a diventare quello che sei diventato, il campione che sei? Io penso già da piccolo, perché io c'era una famiglia, c'era mio padre che giocava anche calcio. E poi addirittura c'era un relazionamento molto grande con il papà di Pelè. Ha giocato anche in semi, una squadra in campagna all'interiore di San Paolo. Allora, questo forse mi è stato anche un po' più prossimo in questa situazione. Però con 6, 7 anni già mi piaceva troppo, né? a giocare il calcio. Io con 7, 8 anni già facevo un po' un paio di gol interessanti. E poi mio papà mi ha portato in Araraquara, che è una città piccolina dove sono nato, e ha cominciato la mia storia. Fantastica, abbiamo visto questa foto che ti ritrai, piccolissima appunto. Erano gli anni di più. Biondo. E' passato un po' di tempo. Sì, abbastanza. Ormai adesso ho passato già di metà secolo, diciamo così, con 62 anni. Comunque cerco sempre di vivere una giornata da migliore forma possibile. Quindi una passione sin da piccolo. Ma tu hai citato Pelè, ecco, il grande, il grande Pelè. E' passato un po' di tempo.